E carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti e benvenuti sul canale. Oggi voglio fare dei video molto più brevi perché qualcuno mi dice eh ma i video tuoi sono troppo lunghi, non riesco a seguirli. A volte capita che nell'ambito di un ragionamento si perda tempo. Ma in mancanza di novità, ad esempio sul caso di Liliana Ressinovic, non c'è niente da dire, c'è una sorta di quasi di silenzio in questi giorni. Una breve riflessione, non vi faccio perdere tempo. Bisognerebbe stare tranquilli, partire dalla riflessione che quel 14 dicembre 2021 una donna sparisce probabilmente uccisa meno probabilmente suicida il cui corpo viene ritrovato il 5 gennaio 2022. Questa è la notizia intorno alla quale bisognava indagare indagare per quello che si configura forse come un fatto di sangue intorno comunque a quella che comunque è una tragedia una tragedia lo è stata comunque invece man mano e sempre di più si è voluto trasformare questa dolorosa vicenda in una specie di soppopera quasi un fenomeno da baraccone in cui non era più necessario stabilire quanto era successo a questa donna così voluta bene così stimata no non era più necessario stabilire chi e perché le avesse fatto del male ma quasi quasi questa questa commedia è di stabilire se lei aveva un amante se non aveva l'amante se voleva lasciare il marito se non voleva lasciare il marito se andava alle saune se andava alle spiagge nudiste insomma se andava nei casino se aveva qualche relazione segreta vedete davanti a una tragedia come questa è una vergogna che si scende a volte anche in particolare i pruriginosi e quindi il web anche le trasmissioni televisive il web in generale in generale si è trasformato in un in un ring una specie di ring in cui combattere fra i pro sterpin i contro sterpin i pro sebastiano i contro sebastiano e la trovo una pochezza davvero tutto ciò sono fiero davvero di non essere mai appartenuto a nessuna fazione sempre libero mentalmente di essere appartenuto solo a me stesso in onestà arrivando secondo quella che è una mia opinione però di di giudicare secondo me di tenere che questa paventata storiella d'amore fosse frutto di una fantasia una fantasia ben calcolata diciamo così da parte di sterpin ma condannando sicuramente anche il marito condannando il marito sebastiano secondo me reo reo secondo me di non dire tutto quello che sa al fine di evitare fastidi a se stesso e quindi per tal motivo di tipo diciamo egoistico sostanzialmente arriva addirittura ad ammettere una sorta di d'amore di storia sebbene amore non codisposto diciamo così pur di arrivare alla scriviazione del caso e non avere fastidi quindi vedete è un atteggiamento un po' complessivo e su questo grosso equivoco amante queste cose qua che si regge questa vicenda che secondo la linea prevalente diciamo della storiella d'amore manda questa inchiesta nelle sabbie mobili e quando alla fine grazie a Dio ecco grazie al lavoro di questi esperti vengono fuori 600 700 forse 1000 addirittura messaggi nell'ultimo anno scambiati fra Serpin e Liliana arriva la doccia fredda arriva quello che nessuno si aspettava ecco di di trovare la doccia fredda cercavano il petrolio e hanno trovato l'acqua l'acqua sporca voglio dire che l'acqua pure è un bene ci si trova di fronte ad un mix di cosa di frasi di frasi quasi incomprensibili non contestualizzate cifrate criptate subito subito cancellate e senza soprattutto parole amorevoli esplicite senza parole amorevoli esplicite quello che io ho definito senza ombra di smentite boomerang clamoroso boomerang che ha fatto scendere un vero e proprio gelo gelo di immobilismo su questa vicenda perché si è messi in sequenza tutte queste centinaia forse un migliaia di cosiddetti messaggi e si è contestualizzati ci si trova di fronte a qualcosa di vogliamo dire strano qualcosa vogliamo dire di angosciante altro che vigilia della luna di miele ecco perché poi Serpin non poneva mai l'accento sul fatto dei messaggi quando gli veniva detto guardi che da una prima perizia non ci sono messaggi lui non ha mai insistito su questo diceva no ma a noi non servivano i messaggi perché noi certe cose ce le dicevamo da vicino vi ricordate eppure si era dimenticato di aver fatto questi forse mille messaggi in un anno però quindi ovviamente sul ring dello spettacolo web e televisivo purtroppo chi si sente parte di uno schieramento di una scuderia continuerà a sostenere l'insostenibile per una salute di amore di padre ecco un patriottismo continuerà cioè a tradurre a dire anche in tv che 111331 invece di leggere così leggerà ovviamente ciao amore mio amore bello buongiorno ciao amore mio e che alla fine è come raccontarsi sempre la stessa barzelletta che ormai non fa più ridere questa doccia fredda del flop veramente veramente chissà cosa si pensava di trovare questo flop enorme di questi diciamo pseudo messaggi d'amore è stata accolta però da da qualche palinzesto tv per cui non se ne parla quasi più in giro una volta tutti i giorni più volta al giorno adesso quasi non si sente niente più forse perché per non cadere proprio nel ridicolo di queste cose magari ci tockerà aspettare venerdì a quarto grado per avere un altro un altro show malinconico sicuramente ecco questa era la breve riflessione di oggi ecco vedete meno di dieci minuti in cui si riflette su questo su questo boom è anche clamoroso si 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 era cercato di scavare per tirare fuori questo petrolio quest'oro nero questo petrolio così e si è trovato acqua scura si è trovata acqua scura qualcosa che somigliava al petrolio e che non noi grazie amici miei condividete il video grazie voglio bene grazie del vostro supporto del vostro amore del vostro affetto un abbraccio a tutti quanti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti